Buongiorno a tutti, siamo lieti di presentarvi Monica ChargPT, un assistente virtuale che può aiutarvi nella vostra vita quotidiana, può aiutarvi a leggere messaggi, pianificare incontri, eventi e molto altro ancora. Seguitemi nella nostra video recensione, potrete scoprire che Monica ChargPT può aiutarvi a pianificare la vostra vita in maniera virtuale. Quindi seguitemi e lasciate un commento, un mi piace e accendete la campanella, molto importante per ricevere una notifica che è uscito il mio video. Ma cosa può offrirci Monica ChargPT? Ebbene... Ebbene dottore, in questo sogno mi trovavo in una città, ero un detective, ero incaricato di risolvere un intricato caso di spionaggio. Alla fine smascheravo il colpevole, nascosto, in un covo segreto sotterraneo. Ebbene la sensazione di aver risolto il mistero mi riempiva di soddisfazione prima di svegliarmi. Ma che cosa vorrà dire? Dottore, mi sta ascoltando? Va bene, va bene, abbiamo solo sdrammatizzato un po'. Questo è solo per farvi vedere cosa l'intelligenza artificiale può fare. E questa è solo una minima parte, abbiamo solo semplicemente fatto un mini sketch dove io inizialmente presentavo un qualcosa che proprio ChargPT mi aveva elencato. Io ho tentato di presentare un qualcosa che era senza sentimento, cercava di utilizzare un sentimento, ma scritto da ChargPT. Infatti vi posso far vedere qua a fianco questa applicazione ChargPT che praticamente potrebbe sostituire i motori di ricerca, cioè Google e quanto altro. Infatti se noi andiamo a guardare, io ve lo faccio vedere qui in sovrimpressione, Monica ChargPT è in grado di soddisfare molte richieste tipo generare script per YouTube. Io vado a cliccare qui, come potrete vedere, io ho semplicemente scritto presenta Monica ChargPT e diciamo che ho tentato semplicemente di dire quello che stava scrivendo, perché ero senza emozioni praticamente. Però non era neanche una cosa naturale, se noi andiamo più giù, scrolliamo, qua possiamo trovare assistente per i problemi emotivi. E' esperto in analisi di problemi, oppure se andiamo più su interpreti di sogni, raccontami il tuo sogno e io cercherò di interpretarlo. Cioè sono tutte cose randomiche ovviamente, non stiamo ad ascoltare quello che ci può offrire queste applicazioni, anche perché qual è il pericolo? Le risposte che vengono date sono prive di emozioni, non sono umane, quindi sono un qualcosa di tecnologico, un qualcosa che va a ricercare in tutti i sistemi di tutto il mondo, va a cercare informazioni di questo genere per poter rispondere alla nostra domanda. Ovviamente che è una cosa molto utile perché utilizzare un qualcosa, un motore di ricerca che può soddisfare una nostra richiesta in maniera veloce è molto utile. Ma i pericoli sono tanti, perché noi possiamo affidarci completamente a questi sistemi. Dopo aver considerato questo, possiamo comunque dire che questa applicazione, Monica Chargpt, è un'applicazione molto utile, perché possiamo fare molte cose. Può darci un'idea di quello che vogliamo fare, come vi ho spiegato prima, generatore di script per YouTube, vi può aiutare a darvi un'idea di cosa potete fare, di cosa potete dire, ma non deve sostituire mai quello che è nel vostro interno, perché quello che avete nel cuore lui non lo può fare. Quindi, andiamo a vedere semplicemente cosa ci può offrire. Io adesso, come vedete sempre nella schermata, abbiamo generatore di script per YouTube. Ok, Monica, cosa vuol dire questo? Che possiamo scrivere qualsiasi cosa, fare domande complesse, come fare una tazza di caffè, questi sono esempi, scrivere una poesia. E qua stavo provando a cercare un sogno, perché al momento non mi era avvenuto nessun sogno, quindi in questo caso lui mi ha cercato di spiegare cosa sono i sogni. Quindi, una cosa molto utile. Se noi, per esempio, andiamo a dire come si cucina l'uovo, ok, clicchiamo qui e lui mi dice che uovo sodo, immergi l'uovo in acqua bollente per 5, 8, 10 minuti. Ok, ottimo. Uovo alla cocco, uovo in camicia, uovo strafazzato, c'è. Ci dà subito un'idea di cosa possiamo fare, di come possiamo farlo, senza andare a diventare matti a cercare una ricetta, che è vero, la ricetta è in base al cuoco, quindi avrà più sentimento la ricetta. Però, in questo caso, una cosa veloce ce la può dare. Oppure, interpreti di sogni, vabbè, queste sono stupidaggini, perché... Fotografi e entusiasti. Allora, qua questa l'ho aggiunta io, perché volendo, qua sopra in alto c'è un più, quindi da più possiamo utilizzare nuovi bot, su come possiamo utilizzare questo Monica. PDF Assistant, possiamo creare documenti, caricare un documento o un riassunto. Allora, poi abbiamo... Cosa ti piacerebbe parlare nella chat? Ecco, questo chat GPT 4, quindi vuol dire che sarà un pochettino più complessa come assistente. Un personale artista online, pronto per soddisfare la tua visione della vita. Potrebbe essere utile, perché noi basta che clicchiamo, scriviamo un qualche cosa che stiamo pensando e lui ti crea un'immagine. Non male. Oppure ci sono tante altre ricerche, chat, generatori di post Instagram, come possiamo scrivere un post e pubblicarlo. Twitter, assistente, traduttori e molto altro ancora. Ci sono tante, tante cose. È un'applicazione completamente gratuita. Possiamo utilizzare non tutte le opzioni che abbiamo, perché avrà un limite 40 domande al giorno. Quindi questo voi potete utilizzare 40 domande al giorno per alcune di queste funzioni. Se volete qualcosa in più, ci sarà un pagamento mensile o abbonamento annuale, ma possiamo utilizzare semplicemente il sistema gratuito. Quindi, cosa ne pensate di questo assistente virtuale, tecnologia? Ebbene, come ho detto all'inizio, molto molto pericoloso. Utilizzatelo con cautela, perché non potrà mai sostituire l'amore di una vera persona. Quindi, questo è un'idea, un aiuto, un qualcosa che ci può aiutare in un momento veloce. Quindi, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Commendo! E accendete la campanella, che è molto importante per ricevere una notifica che è uscito nel mio video, per ricevere questi aggiornamenti o info utili. Quindi, rimanete in sintonizzati, ci vediamo. Ciao! Ciao!